A tutti voi buonasera dal Tg Max, c'è la politica in apertura, Donato Di Fonzo rompe con il PDL e si candida a sindaco con la lista civica lanciano nel cuore. Dure critiche all'amministrazione Paolini, è mancata una guida autorevole. Lo aveva deciso un anno e mezzo fa e oggi l'ufficializzazione è davanti ad una folta platea gremita di sostenitori. Donato Di Fonzo, già assessore regionale alle attività produttive con la Giunta Pace ed ex presidente della Fiera, si candida a sindaco alle prossime elezioni amministrative di metà maggio. Lo fa con una lista civica lanciano nel cuore in palese rottura con il suo partito, il Popolo della Libertà. È una scelta di cuore ma anche è una scelta politica, rompere quei meccanismi della politica, rompere quei meccanismi ormai vecchi, triti e ritriti e soprattutto dobbiamo ricordare a tutti, e lo ricordo anche ai tanti politici, che prima viene la propria città e poi vengono i propri partiti. Ecco perché questa scelta di cuore è una scelta che insieme a una squadra, insieme a tanti amici, siamo disposti a correre. So, ne sono consapevole, che è una scelta difficile, è una scelta ardua, però è una scelta fatta con passione, è una scelta fatta con tante motivazioni, è una scelta per guardare il futuro di questa città. E non sono mancati espliciti riferimenti all'amministrazione uscente e al sindaco Paolini, coordinatore cittadino del PDL, che lo ha recentemente rimosso dalla presidenza di Lanciano Fiera. Una ferita ancora aperta per Difonso, che però rivendica la propria rettitudine. Di me, ha detto poi gli intervenuti, non leggerete mai sulle pagine della cronaca che ho preso un solo euro. Io non tradirò mai questa città, l'ho già dimostrato con la fiera, non tradirò mai questa città per chissà che cosa, per chissà che posto che ti vogliono, mi debbano dare. Se lo mettono bene in testa, tutti quanti. A Lanciano in questi anni è mancata una guida autorevole in casa Difonso, che non è stata in grado di attrarre i fondi per lo sviluppo della città. E poi, dure critiche alla ZTL in centro storico, via le telecamere, dice Difonso, e stoppa ai consigli comunali e ai provvedimenti dell'ultima ora. Il sindaco non è soltanto il sindaco in scadenza, è un'amministrazione in scadenza. Non possono fare certe scelte, lasciano giustamente, legittimamente, da un punto di vista etico-politico, che queste scelte le prenda la nuova amministrazione, le prenda il nuovo sindaco. Ma come anche tante! Primarie e PD a vasto ufficializzate le candidature, sarà sfida tra il sindaco Luciano Lapenna e il presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Forte. A mezzogiorno, nella sede di Piazza del Popolo, è stato il commissario cittadino Camilo D'Alessandro a raccogliere le due adesioni. L'appuntamento è fra due settimane. La cronaca, un 78enne morto in un incidente stradale sulla statale 553 Silvi Atri, la vittima è Vincenzo Pallini, originario di Atri, ma residente a Montesilvano. L'automobile dell'uomo si sarebbe ribaltata dopo essersi scontrata con un'altra autovettura. A causa delle gravi lesioni riportate dall'anziano nello scontro, ogni tentativo di rianimarlo da parte degli uomini del 118 è risultato inutile. Sono invece rimasti feriti in modo lieve gli occupanti dell'altro veicolo trasportati all'ospedale di Atri. Il luogo dell'incidente è lo stesso in cui la settimana scorsa ha perso la vita un 33enne di Pescara. 13 comuni e la provincia di Chieti non vogliono l'impianto di estrazione di gas della Forest Oil. Domenica 13 marzo, assemblea pubblica a bomba con gli amministratori locali e consiglieri regionali. 13 comuni della Val di Sangro e la provincia di Chieti hanno già detto no, ma il rischio che la Forest Oil di Denver realizzi l'impianto per lo sfruttamento di gas naturale nei pressi del lago di Bomba è ancora alto. La gestione partecipata del territorio e il comitato di cittadini contrario all'impianto promuove un'assemblea pubblica a bomba per domenica 13 marzo. Sono stati invitati gli amministratori locali e regionali per informarli sui rischi idrogeologici e l'inquinamento dell'aria, che, spiega il portavoce del comitato Massimo Colonna, l'impianto comporta. Il progetto presentato dalla Forest prevede di scavare 5 pozzi di estrazione del gas e di realizzare un impianto di trattamento del gas, una vera e propria raffineria per la desolforazione con un inceneritore alto 44 metri. Tutto questo perché il gas presente nel giacimento, dicono i cittadini di gestione partecipata del territorio, è molto sporco e ricco di idrogeno solforato, sostanza acida e molto tossica per l'uomo, pertanto deve essere trattato sul posto e non può essere trasportato tal quale. A noi ci fa paura sia la parte idrogeologica, quindi l'estrazione del gas può compromettere la stabilità della diga, questo può comportare abbandonare lo sfruttamento della diga, quindi la produzione di energia elettrica da una fonte rinnovabile, per privilegiare lo sfruttamento di un idrocarburo fossile che durerà al massimo 12 anni. L'altra cosa che ci fa paura è la scarsissima qualità dell'impianto proposto dalla Forest, che per massimizzare gli utili vuole raffinare il gas molto inquinato da idrogeno solforato con un impianto ridicolo che inquinerà tantissimo la nostra aria. E' ancora emergenza a maltempo in provincia di Teramo, le acque in piena hanno eroso un tratto della sponda destra del fiume Tordino in zona con trada Filetto tra Giulia Nova e Roseto, distruggendo il sistema di sicurezza che separava il corso d'acqua dalla vecchia discarica di Coste Lanciano di Roseto e quindi trascinando a valle una consistente quantità di rifiuti. Il fronte eroso della discarica è di circa 300-400 metri. La zona era stata oggetto di un identico fenomeno erosivo nel mese di giugno 2009 e proprio in seguito a questo incidente l'amministrazione comunale di Roseto aveva realizzato il sistema di sicurezza. Scacco alla gang dei furti tra il Teramano e l'Ascolano nella rete dei carabinieri di Alba Adriatica sono finite 5 persone, tutte albanesi. Per due di loro è stato disposto il fermo di polizia con l'accusa di ricettazione. Si tratta di Arnold Taci, di 24 anni, residente a Martinsicuro e di suo fratello Ardit. Nel corso della perquisizione domiciliare in un appartamento a Martinsicuro i militari hanno rinvenuto oltre un chilo e mezzo di oro, monili e gioielli trafugati nel corso dei raid nelle abitazioni tra Abruzzo e Marche. In una seconda perquisizione, invece, nell'abitazione a Martinsicuro di Roland Cela, di 29 anni, che ospitava il fratello clandestino, sono stati trovati 60 grammi di cocaina. Per loro è scattato l'arresto per detenzioni a fini di spaccio e per il secondo anche per il reato di immigrazione clandestina. Roland Cela, in concorso con una prostituta albanese di 24 anni, è stato anche denunciato a piede libero con l'accusa di ricettazione insieme ai fratellitaci. Nascosti in casa e negli scantinati dei due appartamenti, i carabinieri hanno trovato e sequestrato 200 mila euro di merce rubata tra scarpe, capi d'abbigliamento e accessori firmati. Petrolio in Abruzzo, risorsa o minaccia? Se ne è parlato a Pescara nel corso di un convegno dibattito promosso dall'Associazione Articolo 3. Petrolio in Abruzzo, risorsa o minaccia? Ha provato a dare una risposta a questa domanda stamani in provincia Pescara l'Associazione Articolo 3, presiduta dalla consigliera provinciale Antonella Allegrino nell'ambito di un convegno dibattito. La questione è stata articolata in due fasi distinte, la prima di confronto tecnico, la seconda di sapore più politico. Dare una risposta chiara alla comunità sulla risorsa petrolifera abruzzese. Con questa motivazione, ha spiegato la Presidente Antonella Allegrino, è nata l'idea del confronto. Vogliamo tentare e siamo certi di poter riuscire a creare un dialogo fra le diverse parti per riuscire ad individuare un punto di mediazione, un punto di equilibrio che consenta di guardare verso il futuro. Un punto di equilibrio che guardi verso la tutela fondamentale del bene più prezioso che abbiamo, che è l'ambiente nella regione Abruzzo, con tutte le problematiche derivanti dalle necessità energetiche e dalle necessità di lavoro. All'incontro hanno preso parte anche le associazioni ambientaliste regionali. Sentiamo Gabriele Di Clerico, Presidente del Comitato No Petrolio. Dire un no al petrolio senza se e senza ma. Dello stesso parere anche Alessandro Lanci, Presidente regionale dell'Associazione Nuovo Senso Civico. Il petrolio abruzzese, se venisse estratto domani, basterebbe soddisfare le esigenze italiane per due giorni. Non è che il petrolio è stato in Abruzzo, il gas è stato in Abruzzo farà abbassare la bolletta energetica italiana. Pagheremo la benzina come quello che oggi paghiamo in Libia, in Egitto e in altri paesi del mondo. Polizia e carabinieri cercano a vasto un medico pugliese di 40 anni, Giuseppe Di Munno, che da mezzogiorno di ieri non dà notizie di sé. Arrivato l'altro giorno in auto, in visita alla sorella in compagnia di mamma e suocera, l'uomo celibe è uscito dopo pranzo con un pincer nero al guinzaglio e non è più rientrato a casa. L'ultima volta è stato visto nei pressi del comando della polizia stradale di via Giulio Cesare, di corporatura robusta, di Munno indossava un giaccone imbottito, un cappello con la visiera e occhiali da vista. Non ha con sé il telefonio e nemmeno denaro che aveva lasciato a casa. Chi l'ha visto è pregato di contattare le forze dell'ordine. Vigili del fuoco impegnati a San Salvo a domare l'incendio che ha semidistrutto il mobilificio Fiore incontra da Marinelle. L'incendio si sarebbe sviluppato partendo dagli uffici per estendersi all'intero edificio. Sul posto hanno operato quattro squadre di vigili dei distaccamenti di Vasto e Ortona. I danni maggiori hanno interessato alla struttura e pompieri sono ora al lavoro per verificarne l'agibilità. Nell'edificio non c'erano molti mobili perché l'attività era in dismissione. Manifestazione antifascista lanciano per liberare le città dal razzismo e dal neofascismo. Riccardo Di Gregorio di Rifondazione Comunista, segretario provinciale. Anche a Lanciano si ribadisce l'antifascismo e soprattutto la lotta al razzismo. Sì, sempre. Io credo che queste manifestazioni dovrebbero far capire alle persone, ai cittadini, che i valori della nostra nazione, del nostro paese si basano sull'antifascismo e soprattutto sull'antirazzismo, soprattutto in una situazione geopolitica di questo tipo che vede comunque una migrazione massiccia da parte del Nord Africa. Noi qui, come in tutte le città abruzzesi, ci saremo sempre. Abbiamo fatto un coordinamento antifascista sul mondo il mese scorso. Crederemo di portare in piazza tantissime persone. Oggi, nonostante il maltempo, sono presenti 200-300 persone a ribadire questo concetto in una città importante, medaglia d'oro al valore militare come Lanciano. Ma così come a Chieti, dove dimenticano di ricordare i martiri dell'11 febbraio, noi siamo stati presenti e lo saremo sempre. Qui se ricordiamo i martiri ottobrini, li ricorderemo sempre in ogni parte dell'Abruzzo e in ogni parte del paese. Grazie. Rapina a mano armata in una tabaccheria del centro di Lanciano. Ieri sera intorno alle 20.30. Un uomo, a volto scoperto, è entrato nella tabaccheria di Viaferro di Cavallo minacciando la titolare con una pistola. La donna non ha reagito e il malvivente ha prelevato l'intero incasso della giornata, ancora da quantificare con precisione, ma comunque tra i 1.000 e 2.000 euro per poi dileguarsi. Sul fatto indaga la polizia di Lanciano. Alvaglio degli inquirenti, il sistema di videosorveglianza installato proprio ieri, qualche ora prima della rapina. Quattro persone arrestate per risa e 12 denunciate a Francavilla al Mare, dove due gruppi di giovani, forse per una battuta mal digerita, si sono scontrati in un ristorante. Gli arrestati sono Gioacchino e Cosimo Savarese, due fratelli napoletani rispettivamente di 37 e 31 anni, Massimiliano Di Giovanni Romano e Stefano Di Domenico Pescarese, entrambi di 30 anni con numerosi precedenti di polizia. Nel corso della lite, al termine della quale 5 ragazzi sono rimasti lievemente feriti e due hanno riportato lesioni con prognosi di 15 e 20 giorni, alcuni dei giovani si sono impossessati di coltelli, bicchieri e bottiglie presenti sui tavoli, mentre il locale ha riportato alcuni danni agli arredi, alle suppellettili e alla vetrata della porta di ingresso. A Pescara il Comune ha previsto delle agevolazioni per il pagamento della Tarsu in caso di apertura di nuove attività e in favore delle famiglie che vivono un disagio economico. Le nuove attività economiche e chi ha problemi sul lavoro. Per queste categorie il Comune di Pescara ha previsto delle agevolazioni per il pagamento della Tarsu la tassa sui rifiuti. Lo ha annunciato oggi l'assessore all'entrata Massimo Filippello spiegando che queste decisioni sono state prese nelle more dell'adozione del nuovo regolamento sospesa in attesa delle modifiche governative. Per le nuove attività verrà introdotta una riduzione del 50% per i primi tre anni di lavoro ma, ha spiegato Filippello, deve trattarsi davvero di nuove attività. Abbiamo previsto una riduzione della Tarsu per i primi tre anni di attività per coloro che entrano a prendere una nuova vera attività c'è coloro che effettivamente non fanno una cessazione di una vecchia attività per aprirne subito, immediatamente una nuova nemmeno per coloro, non vale per coloro che c'è solo l'azienda e le aprono subito un'altra in caso di conferimento di azienda, di donazione deve essere una vera nuova attività. Quindi vale per i primi tre anni. Abbiamo pensato ai nuclei familiari che sono in uno stato di disagio quindi abbiamo pensato per coloro che è l'unico portatore di reddito nel nucleo familiare, si trova in cassa integrazione oppure percepisce un'intendità di mobilità o di disoccupazione una riduzione del 50% della Tarsu rapportata ai periodi in cui si trova in questa situazione di disagio lavorativo. Oltre 500 cartucce calibro 12 sono state trovate sequestrate dai carabinieri nelle campagne intorno a Città Sant'Angelo in via Tamerici, erano conservate in tre cartuccere in una borsa di tessuto e sono di marche diverse ma tutte riconducibili a materiale utilizzato dai cacciatori. I militari stanno cercando ora di risalire al proprietario. E siamo alla pagina sportiva in Serie B nel pantano dell'Adriatico Cornacchia termina a 0-0 la gara tra Pescara e Regina. Si conclude a Riti Bianchi la sfida d'alta classifica tra Pescara e Regina su un campo di gioco reso pesantissimo dall'incessante pioggia e davanti a pochi spettatori le contendenti hanno comunque dato vita a un match dai buoni contenuti agonistici ma povero di spunti tecnici di rilievo sul fronte formazione di Francesco opta per Capuano come ercivo sinistro ritrova il tandem di destra Gessa Zanon. Un minuto di raccoglimento e poi il fischio d'inizio subito un brivido per i tifosi pescaresi un traversone di Barillà dalla destra attraversa tutta l'area di rigore e non trova per poco Campagnacci alla deviazione da distanza ravvicinata al quinto brutta distorsione al ginocchio per Nico senza contatto con nessun avversario che è costretto a uscire dal campo in barella al suo posto Berardocco al dodicesimo Viola incaduta dal limite dell'area piccola conclude a rete con Pinna che è costretto a retrocedere e a bloccare in tuffo sulla linea di porta rivediamo nel rallenti al diciassettesimo conclusione dalla distanza dell'esperto tedesco con Pinna che blocca il pallone timido tentativo di conclusione da parte di Sodimo un minuto dopo senza nessun esito Regina più intraprendente Pescara che invece trova più difficoltà a destreggiarsi nel pantano dell'Adriatico ventinovesimo scambio Sansovini Sodimo in aria il tiro dell'ex Doriano ma conclusione da dimenticare al trentacinquesimo rimpallo dal limite dell'area calabrese con il tiro di Sansovini il destro si spegne sul fondo e poi al quarantaduesimo punizione dalla sinistra di Tedesco spizzata di adeggio colpo di testa di Campagnacci che trova l'opposizione di Pinna che salva il risultato e questo l'ultimo brivido prima del fischio del signor Stefanini nella ripresa di Francesco gioca la carta Giacomelli che rileva Sodimo al dodicesimo stacco di Cosenza centesima gara per lui in Serie B sugli sviluppi di un calcio d'angolo nessun brivido per Pinna e compagni un minuto dopo Livi imita il tentativo appena descritto ma non riesce ad arrivare entra l'ex di turno Zizzari fuori Viola minuto 29 Giacomelli riceve sulla sinistra un'apertura di Tognozzi suggerimento al centro per Sansovini si gira conclude ma Pugioni blocca in presa bassa e poi l'occasionissima alla mezz'ora Giacomelli dalla destra imbecca l'ex del Grosseto libero a due metri dalla porta avversaria ma Sansovini è colto in controtempo e dunque conclude debolmente al trentatresimo il forcing bianco-azzurro si concretizza in un colpo di testa di Mengoni che trova Pugioni ancora una volta attento nel bloccare la sfera e alleggerisce a sua volta la regina in questa ultima azione tutto qui lo 0 a 0 manda in archivio il match sesto risultato utile consecutivo per la regina il Pescara bloccato in casa e già questo fa notizia in serie D scivolone del Taramo sul campo del Trivento 2 a 1 risultato finale in favore dei Molisani e andiamo avanti con il tempo di 26 minuti e 34 secondi Gabriele Denard delle Fiamme Gialle si è giudicato la trentesima edizione del Cross Internazionale del Sud nemmeno la pioggia battente ha fermato la trentesima edizione del Cross del Sud la classica del Mezzofondo Italiano disputata oggi a Villa delle Rose di Lanciano sull'impegnativo percorso di 8 chilometri si sono sfidati i campioni della specialità ben 70 i partenti da Slimani Cadur campione italiano in carica runner team 99 Volpiano a Gabriele Denard delle Fiamme Gialle per arrivare a Iuri Floriani Patrick Nasti Gianmarco Buttazzo Giulio Iannone la manifestazione ha anche assegnato il diciannovesimo memoria all'avvocato Gennaro Paone e il settimo Memorial Cavaliere del Lavoro Icilio Sideri come da tradizione prima del Via del Cross del Sud circa 1500 studenti delle scuole medie inferiori della provincia di Chieti hanno corso la Coppa Speranze del gruppo Fiat la manifestazione organizzata dall'atletica gruppo Fiat Auto Forma in collaborazione con la Savelle di Atessa e BLS ha visto l'affermazione di Gabriele Denard con 26 minuti 34 secondi seconda posizione per Gianmarco Buttazzo terzo Tony Melli dell'atletica Valle Brembana parola ai protagonisti Gabriele Denard secondo successo consecutivo a Lanciano oggi giornata pessima dal punto di vista medio però credo che sia un percorso molto adatto alle due caratteristiche qui ci torno sempre volentieri perché nel 2006 ho vinto il mio unico titolo italiano di corsa campestre quindi anche se abito molto lontano perché vengo da Belluno e sono quasi 700 km però ogni anno vengo molto volentieri a Lanciano oggi le condizioni erano molto molto dure con pioggia e fango e tanta acqua in fondo al percorso però questo è un vero cross e mi si addice ed è tutto vi lascio al Meteo Max l'appuntamento con la nostra informazione torna come sempre domani e domenica con il TG7 grazie per essere rimasti con noi buona domenica a tutti